3.000 imprese che chiudono, 3.000 saracinesche che si abbassano nel capoluogo sono i numeri dei primi due trimestri 2021 targati in focamere. Nello specifico si tratta di 2.542 aziende che hanno alzato bandiera bianca già tra gennaio e marzo, alle quali si sommano le 883 che lo hanno fatto nella finestra entro lo scorso giugno. I più colpiti sono i settori della ristorazione e dell'abbigliamento, almeno secondo le stime di Confesercenti, numeri che non si discostano troppo da quelli del 2020. L'anno nero della pandemia, infatti, aveva visto 3.844 aziende chiuse nello stesso arco temporale, 2.982 delle quali nel primo, 862 nel secondo trimestre. Numeri da prendere con le pinze, si intende, quelli del registro di cessazioni e nuovi nati, dal momento che rivelano anche l'attesa di ristori e sostegni da parte dello Stato, ma pure il colpo di Reni, segnalato dal numero uno degli esercenti regionali, ne ho riconfermato ben di Campobasso, circa l'accelerazione riscontrata nel terzo trimestre dell'anno in corso, sull'apertura delle attività nel territorio all'ombra di San Nicola. A fare da supporto anche le Camere di Commercio, 330 mila euro, i fondi già stanziati da quella di Bari per il Bando Voucher Digitali, rivolto a micro, piccole e medie imprese della circoscrizione Baribat, che intendano promuovere la digitalizzazione della propria attività.